Quest'aula rimarrà vuota ancora per poco, anzi fino al 7 giugno. Quel giorno infatti alle ore 18 le 30 sedie verranno occupate dai neoconsiglieri. L'ormai ex presidente Francesco Alfano ha infatti convocato la prima seduta del nuovo consiglio comunale. Sarà questa l'occasione per l'insediamento ufficiale dei nuovi consiglieri che uno alla volta, come previsto dal regolamento, presteranno giuramento. A presiedere la seduta sarà Geraldo Alonji del PDL, che con le sue 627 preferenze è stato il consigliere comunale più votato in città. Ma subito si provvederà ad affrontare la parte più calda della seduta, l'elezione del presidente del consiglio comunale e dei vicepresidenti. Saranno qui gli equilibri tra partiti a decidere la questione. Ricordiamo la composizione del consiglio. Le due liste che sostenevano la candidatura di Marco Zambuto hanno a disposizione 9 consiglieri su 30, praticamente 5 il patto per il territorio e 4 l'UDC. Il resto del consiglio è composto da 5 consiglieri per il PDL, altre tanti per l'MPA, 4 seggi per Grande Sud, 3 per Futuro e Libertà e infine 2 a testa per il Partito Democratico e Cantiere Popolare. Vedremo chi la spunterà. Immediatamente dopo è previsto il giuramento di Marco Zambuto, che entra in consiglio per la prima volta da sindaco al suo secondo mandato. Infine, altri punti rilevanti riguardano la costituzione delle 6 commissioni consigliari permanenti. Dopodiché i 30 consiglieri saranno pronti ad iniziare il mandato conferitogli dai cittadini.